...deve sistemarla in un altro modo. Sono un piccolo esercito di 3.000 persone di età compresa tra i 0 e i 16 anni, non in regola con le vaccinazioni esavalenti e più del doppio per quanto riguarda quelle relative al morbillo in tutta la provincia di Pesaro. Entro l'anno scolastico queste persone dovranno mettersi in regola con le vaccinazioni obbligatorie in ottemperanza alle disposizioni di legge emanate il 28 luglio scorso e che portano il nome del Ministro della Salute Lorenzin. Ma quali sono le vaccinazioni necessarie e quali sono le persone che verranno convocate e cosa dovranno fare? Lo abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento Prevenzione e Salute dell'Area Vasta 1 e dei suoi collaboratori. Sono 10 in sostanza le malattie per cui è prevista la vaccinazione, quindi 10 vaccini, ma che in realtà non sono 10 iniezioni, ma rappresentano una che è chiamata esavalente e l'altra che è una quadrivalente per i nati nel 2017, cioè una che protegge per tetano, difterite, per tosse, emofilis influenze, epatite B e l'altra che protegge per morbillo, rosolia e parotite, per i nati nel 2017 anche per la varicella. Per i bambini che vanno da 0 a 6 anni, per cui devono frequentare l'asilo nido, la scuola materna, le scuole dell'infanzia, la copertura vaccinale diventa una condizione per entrare a scuola, per poter essere ammesso alla scuola. Per gli altri bambini c'è l'obbligo vaccinale dai 6 ai 16 anni, con il fatto che se non sei vaccinato puoi comunque frequentare la scuola, però è l'obbligo della direzione didattica cercare di mettere questi bambini che non sono vaccinati, magari perché non si possono vaccinare per problemi di salute, in aule dove c'è la copertura vaccinale. Dovremmo partire per i primi giorni di settembre con i bambini da 0 a 6 anni, perché sono i primi che entreranno negli asilo nido e nelle scuole materne, per cui dovremmo convocare per una vaccinazione tutti questi bambini. Gli arriveranno due fogli, con una raccomandata, parlo di quelli che non sono in regola con le vaccinazioni, gli arriveranno due fogli, in uno dei quali c'è una sorta di voucher dove loro dichiarano di aderire all'invito vaccinale e lo consegnano alla direzione didattica, alla scuola. Con quello si supera il concetto che accettano quindi la vaccinazione e si programma la vaccinazione che deve essere fatta nel corso dell'anno. Nell'ambito della provincia di Pesero abbiamo circa 200 bambini ogni anno che non sono in regola con le vaccinazioni, il che vuol dire circa per l'esavalente 3.000 bambini da 0 a 16 anni e per il morbillo Rosalia Perotite che ha avuto coperture più basse si parla di un doppio, circa 6.000 bambini che si devono mettere in regola. Chi non riceve nessuna richiesta, una lettera raccomandata come dicevo prima, vuol dire che è in regola con le vaccinazioni e può fare un'autocertificazione. La documentazione per l'autocertificazione è scaricabile su tutti i siti, ASUR, Regione Marche, Ministero della Salute, ma anche nel sito del MIUR, del Ministero della Pubblica Costituzione. È un modello già predisposto di autocertificazione dove dichiara che lui è in regola con le vaccinazioni. Dottoressa, allora in questi giorni c'è un incremento dell'affluenza, quali sono i vostri dati? I dati sono assolutamente in trend in aumento e proprio per questa ragione abbiamo implementato tutti i nostri ambulatori con gli orari e anche come giornate. Faremo ambulatorio mattina e pomeriggio, sia qui a Fano che altrove a Mondolfo, Pergola e Fossombrone e per ci impegniamo al massimo per far fronte a tutte queste nuove esigenze dovute alla nuova normativa. C'è da dire però che siamo a risorse sempre uguali. Prima così eravamo, ancora siamo così, speriamo di riuscire, ma ce la mettiamo tutta. Siamo comunque sommersi di domande, anche fuori da quelle fasce orarie e c'è una disponibilità assoluta da parte di tutto il personale per far fronte alle problematiche dei genitori e alle preoccupazioni dei genitori per la missione delle scuole.